Si conclude una prima fase congressuale per quanto riguarda la segreteria del Partito Democratico, com'è nata nell'Aretino? Devo dire una discussione dai toni pacati, una discussione nei circoli tra gli iscritti che si è sviluppata in 15 giorni, che ha portato un risultato di partecipazione al 54%, con un risultato per la mozione Renzi del 68%, della mozione Orlando del 28% e del 3 qualcosa per la mozione Emiliano. La speranza e l'augurio è che questa prima fase abbia ripercussioni positive nel percorso che porta al 30 aprile, giornata nella quale si eleggerà effettivamente il segretario del Partito Democratico, nonché per statuto candidato a Premier e saranno primarie aperte a tutti i cittadini che si dichiarano elettori del Partito Democratico. Quindi l'invito è rivolto a tutti i cittadini, a una partecipazione popolare ampia e magari anche festosa che il 30 di aprile può contribuire ad eleggere il segretario del maggior partito d'Italia. Un'affluenza inferiore a molti dati toscani? Siccome l'affluenza purtroppo è l'affluenza minore della provincia toscana, dove c'è una media del 58%, noi siamo leggermente sotto la media, sinceramente non so ancora da quali fenomeno derivi, dopodiché è evidente che è un tema che dobbiamo recuperare perché la partecipazione degli iscritti in primis, ma anche dei cittadini è uno degli obiettivi prioritari del Partito Democratico. Arezzo a minuto agli iscritti rimane renziani? Sì, indubbiamente tra gli iscritti raggiunge una quota considerevole del 68%, in questa fase è una fase nella quale l'emozione serviva a selezionare i candidati alle primarie, tutti e tre i candidati saranno presenti nella scheda delle primarie del 30 di aprile, quindi bocca al lupo a tutti e tre e buon congresso a tutti i cittadini che vorranno partecipare agli iscritti del Partito Democratico.